Musica Abbiamo trovato un oggetto C'è una serie di segnali che si vedono sul radar E adesso andremo a verificare se si tratta di una rete illegale Oppure di un altro sistema di pesca Musica Pronto Capitania di Porto Pronto Sì, Reggio Calabria Sì, siamo di Greenpeace Vi dobbiamo segnalare una spadara Musica 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 Grazie a tutti. La capitale di Porto è italiana che ci chiede di restituire le reti illegali agli stessi pescatori. Ma che è una follia? Ma quella non è fatale! È illegale! Voi vi prendete la responsabilità di questo movimento di reti? Va bene. Ve la prendete interamente e completamente? È l'autorità marittima che ce l'ha preso. È certo. La Guardia Possiera. Il comandante ha detto che questa operazione ci potrebbe essere risposta. Voi vi siete presi questa risposta. Il comandante ha detto che questa operazione ci potrebbe essere risposta. Il comandante ha detto che questa operazione ci potrebbe essere risposta.